Se prima dovevamo correre, adesso dobbiamo sprintare, scattare, nel senso che siamo entrati ufficialmente nella Zala Rossa, proprio da adesso giù la testa e a fuoco fino alla partenza della Gepan. Dovremmo essere in mare 8 di settembre, oggi è il 28 di agosto, per cui sapendo che saremmo in un cantiere per rimettere la piglia dal 4 al 7, dobbiamo essere con la barca pronta venerdì sera. Il giovedì e venerdì si farà la botteco con tutto l'adesilo nuovo dello sponsor, quindi la barca si mette l'abito nuovo e faremo il meglio e anche di più con quello che abbiamo.